Il decreto legge sblocca cantieri sarà il cavallo di Troia in cui inserire una serie di norme relative al terremoto. Ci sono due mesi di tempo prima della sua conversione in legge per inserire emendamenti che potrebbero avere effetti benefici su entrambi i crateri sismici, quello del 2009 e quello del 2016. A ribadire la convergenza tra le forze dei territori e la Regione Abruzzo e il Governo è il Presidente della Regione, Marco Marzilio, che ha riattivato una settimana fa il tavolo della ricostruzione sospeso con le elezioni regionali. Prossimo step è il tavolo nazionale dell'8 maggio, convocato a Palazzo Chigi dal sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi. Adesso abbiamo finalmente da pochi giorni l'occasione che si attendeva e sul rispetto alla quale anche il Governo ha dato ampie assicurazioni creando anche una forte aspettativa. Io spero e lavorerò insieme al Governo e a tutte le forze del territorio perché questo avvenga. Questo decreto legge sblocca cantieri contiene alcuni articoli che riguardano il terremoto. Saranno quegli articoli il gancio attraverso il quale inseriremo le altre norme in sede di conversione del decreto in legge, quindi abbiamo quasi due mesi di lavoro importante da fare, abbiamo già convocato delle riunioni apposite. L'8 maggio andremo a Roma da Crimi alla struttura di missione a portare le proposte dell'Abruzzo e dell'Aquila per fare finalmente norme, risorse e assunzioni che servano a far velocizzare il processo di ricostruzione di entrambi i terremoti, non solo quello dell'Aquila, ma anche quello del Sisma Centro Italia che ha colpito prevalentemente la provincia di Teramo. Questo lavoro lo stiamo facendo e io spero che entro poche settimane la legge approvata in Parlamento possa darci gli strumenti per decollare.